buongiorno a tutti amici della pancia del tifoso mascolatore senza giacca benvenuti all'appuntamento tradizionale del mondiale di consolazione un mondiale sempre più a tinte rosso nere la francia raggiunge l'argentina in finale grazie al gol di teo che gol teo ragazzi è inutile il risultato cioè mi tocca tifare francia con i nostri protagonisti insomma anche più attesi che forse si pensava già potessero arrivare fino in fondo quindi stanchi a questo punto speriamo che vincano almeno tornano contenti perché insomma teo ieri ha detto che era un po cotto effettivamente mentre gli altri hanno fatto vacanza ci sono ancora due juventini per modo di dire parellesi di maria insomma per quello che stanno giocando in finale altri due interisti che comunque arrivano fino alla fine i napoletani invece hanno fatto vacanza e quindi già pieni dei loro otto punti si avviano verso una facile vittoria dello scudetto mentre il resto della compagine rosso nera si allena dubai ancora ranghi ridotti con carichi duri e qui ci sono già i milanisti da tastiera che si lamentano delle sconfitte né amichevoli ma che se ne frega l'importante recuperare gli infortunati i megnani hanno ancora tornato a allenarsi speriamo che siano pronti tutti a gennaio ma tornando al mondiale di consolazione devo dire che ieri è stata una bella partita francia marocco argentina invece croazia è stata dominata l'argentina un'argentina che probabilmente molti pronosticavano in finale e forse contro la francia devo dire che io avevo messo argentina favorita con francia seconda ma dopo le prime giornate pensavo che la finale potesse essere brasile portogallo e tra argentina e francia io do favorita l'argentina perché la francia è arrivata cotta a pochi cambi è più dire ma adesso guidata da messi sembra anche più fresca della francia e cosa dire teo dopo il gol di ieri in difesa si è prodigato però insomma con a chi mezzi e che ha sofferto parecchio un grande marocco infatti poteva starci il rigore fatto da teo che ogni tanto entra scomposto veramente su bufal e marocco ha dimostrato avere anche un gioco d'attacco dei giocatori sconosciuti che dimostrano di essere forti cosa vuol dire l'attaccamento alla maglia stanchi stanchi morti però hanno dato tutto l'anima e hanno anche dei bei piedi molti giocatori quindi lode al marocco e questo fa capire che si possono trovare delle sorprese anche nel calcio mercato di giocatori non così reclamizzati che possono dare molto molto alla squadra e quando svesti la madre della nazionale dai sempre di più la nostra italia vedremo cosa farà in futuro intanto godiamoci questi ultimi giorni del mondiale questi giorni di riposo e ci avviamo verso la finale di domenica e poi si penserà solo al campionato un saluto a tutti e sempre forza milan a questo punto forza teo e forza oliviero ciao a tutti